we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi ho da farvi vedere delle cose interessantissime per quello che riguarda il futuro di fortnite oggi nel titolo avete letto gameplay dei nuovi pugni di hulk una cosa meravigliosa ma parleremo anche della fine season vedremo il nuovo balletto che è arrivato oggi nello shop e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio la notizia della patch 14.00 la season 14 la season 4 come tutti la conosciamo hanno già fatto 75 test sui server e la cosa veramente importante è che da ieri sono iniziati i test server 1 per adesso sulla patch 14.10 questo è un ulteriore conferma che molto probabilmente dopo anni di season avremo una stagione che non avrà nessun ritardo quindi nessun posticipo e il 26 agosto vi ricordo è l'ultimo giorno di questa season quindi tanta tanta roba ovviamente se hanno già fatto la 14.10 io sono molto tranquillo non vedo l'ora davvero di vedere la season 4 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle informazioni riguardante queste ultime settimane di season e più precisamente sulle monete xp sicuramente molti di voi avranno iniziato a notare che dall'ultima patch la 13.40 sono state introdotte nel gioco un sacco di monete d'oro le golden xp coin che danno ben 15.000 punti esperienza ce ne sono alcune tipo nel ponte vicino a fattoria oppure ce n'è un'altra a borgo bislacco un'altra in mezzo alle ciminiere di foschi fumaioli ma quello che ci dicono è che per la settimana 9 e per la settimana 10 non saranno aggiunte altre monete quindi ragazzi se dovete fare i quei completisti andate a guardare qualche video che vi mostri la posizione di tutte le monete prendetele perché sono davvero tantissimi punti esperienza e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per chi non lo sapesse ci sono ancora delle quest dedicate all'astronave l'hanno un pochettino lasciata lì diciamo cioè con l'abbassamento dell'acqua l'ultimo livello dell'acqua è stata scoperta la navicella spaziale quella dietro scogliere abbiamo fatto tutti le varie missioni l'abbiamo fatta partire sappiamo che è in qualche punto della mappa aperta sappiamo anche però che come leggete backhead name quest a relocate object 01 e ci darà 14.000 punti esperienza adesso non sappiamo ancora quale sarà la nuova quest ma sappiamo che i punti esperienza arriveranno potrebbe anche essere nuovamente una quest a step quindi magari ne riceveremo poi anche un blocco da 25.000 abbiamo semplicemente delle variabili come vedete open ship quindi aprire la nave collect hidden star reward quindi collezionare delle ricompense stella e pick up success vorrebbe dire commissione completa in poche parole anche qua appena ci saranno delle informazioni non mancherò di aggiornarvi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva un post un post si su instagram ufficiale da parte della signora nicole bloom garden signora ragazza che scrive ma va hai mail it e the out west emote drop some forte tonight at 8 pm eastern time la ragazza ovviamente famosa su tik tok è stata selezionata per avere un balletto dedicato e dovrebbe essere disponibile proprio oggi nello shop dico dovrebbe perché questo video è registrato prima dell'arrivo del nuovo shop voglio comunque far vedere quello che lei ha pubblicato sulla sua pagina instagram grazie a tutti grazie a tutti come vedete davvero evidentissimo il video tra l'altro nella pagina instagram ufficiale di fortnite è stata proprio twittata una foto della ragazza quindi nuova emote in arrivo la trovate nello shop e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle informazioni aggiuntive su quello che è il comic book oramai lo avrete sentito sono già due o tre giorni che ve ne parlo abbiamo cominciato con delle informazioni un po' frastagliate ma abbiamo capito anche che arriverà nella lobby quella dove ci sono tutti gli outfit tutte le skin di questo pass battaglia alcuni utenti su ps4 purtroppo non in italia a quanto mi risulta già lo possono vedere nella pre lobby appunto il che vorrebbe dire che secondo me nel giro di pochi giorni sarà disponibile per tutti se andate a vedere il mio video di ieri o dell'altro ieri vi faccio proprio vedere lo spezzone di gameplay aprendo la lobby dove ci sono tutti tutte le skin sulla destra ci sarà appunto questo libro e il comic book ragazzi è relazionato con Thor ora non sappiamo se sarà l'evento di Thor a chiudere questa season quindi sarebbe la prima volta come abbiamo già detto ieri che una collaborazione caratterizzerebbe anche la chiusura di una season sono più propenso a pensare che sarà semplicemente una chicca in più sappiamo però anche una notizia nuova avete presente questa montagna siamo praticamente sopra Gatto Grill per capirci bene hanno detto che questa sarà la montagna della nuova location ieri ve ne ho fatta vedere un'altra perché le informazioni evidentemente erano sbagliate dovrebbe essere appunto costruita sopra qua si chiamerà High Tower quindi Torre Alta avrebbe anche senso la posizione perché è una delle montagne più alte che possiamo trovare nella mappa e quindi staremo a vedere ragazzi se ci saranno delle informazioni extra e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una notizia davvero importantissima un tweet ufficiale della pagina Marvel's Avengers che dice Surprise! The Marvel's Avengers pre-order beta for PS4 is now live worldwide vuol dire ragazzi che se avete una Playstation 4 avete la possibilità di pre-ordinare la beta di Marvel's Avengers e giustamente voi mi dite Xiu da perché io dovrei ordinare la beta di Marvel's Avengers? perché ragazzi completando la beta facendo le tre missioni se non ricordo male che vengono richieste si otterrà questa ricompensa e ragazzi è una figata incredibile Hulk Smasher ve ne avevo già parlato sono i pugni di Hulk voglio un attimo preparare perché abbiamo la clip ragazzi mamma mia mamma mia arriveranno appunto al completamento della beta e potranno anche essere modificati avranno uno stile personalizzato e mamma mia tanta roba ragazzi i pugni di Iron Man vi faccio vedere ragazzi la clip perché merita davvero tantissimo non c'è non so ragazzi cosa ne pensate voi ma secondo me il fatto di poter distruggere l'ambiente intorno senza il piccone è una figata pazzesca perché non abbiamo tutto l'ingombro appunto dell'oggetto davanti può sembrare una stupidata ma secondo me è una genialata a me personalmente piace tantissimo questo nuovo oggetto non mancherò di shopparlo nello shop perché sappiamo che arriverà anche per tutti quelli che non possono fare il preordine della beta o semplicemente non hanno una PS4 o un Xbox vi ricordo ragazzi che dal 7 al 9 agosto per PlayStation c'è il preorder dal 14 al 16 agosto c'è l'open beta il stesso giorno 14-16 agosto abbiamo il preordine per Xbox mentre il 21 e il 23 agosto c'è l'open beta per la stessa console insomma ragazzi io anche oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 ciao